E bella a tutti ragazzi, io sono Salagar e oggi siamo qui per parlare della nuova season di Fortnite perché oggi 24 maggio sta uscendo, anzi in questo momento stanno uscendo tantissimi leaks inerenti alla nuova season ne ho visto qualcuno ragazzi, ho visto anche un po' del cambiamento della mappa ed è pazzesco non ci sono tanti cambiamenti nella mappa, ci sono i punti di intera, hanno messi qualche POI però ragazzi è veramente figo alle 8 di questa mattina è uscito il nuovo trailer e lo voglio guardare insieme a voi andiamo questo è il teaser che abbiamo visto noi all'inizio del trailer questo no, questo non l'abbiamo visto qui c'è la nave, ok la nave è salpata, è arrivata all'isola questo punto, questo pezzo di trailer l'abbiamo visto pure, questo no come è? Megalodon ok vabbè ci possiamo spostare scarro e mattatrice, quindi ci stanno facendo vedere le skin del passe madonna, il sub con la forma di squalo, che figo la macchinista ruggine, quindi hanno fatto una rivistazione di ruggine armatura del T60, ok quell'arpione che si mette, che si attacca alle macchine la nucca cola questo è quello che vi dicevo l'altra volta, il modificatore delle armi ok che cos'ha il Megalodon nelle braccia? porca troia magneto ragazzi troppe cose ci sono da vedere i pateri di magneto un cursore madonna cioè ragazzi c'è troppa roba da vedere aspetta andiamo un poco indietro perché partiamo da qui che abbiamo visto questa specie di arpione che si attacca alle macchine la nucca cola che penso serviva per curarsi o non so se è un emote il modificatore per le armi che questo ragazzi è figo veramente ho visto anche qualche arma nuova questi pugni ragazzi sono cioè sono devastanti ma anche il potere di magneto che distrugge le cose si fa tipo da scudo e può anche lanciare cose e ragazzi madonna che caos queste sono tutte le nuove skin che ci saranno nel pass quindi ci sarà il T60 ok ruggine la skin quella che abbiamo visto nel teaser ok vabbè la macchinista che ragazzi la macchinista sembra una rivisitazione del della skin quella era aspetta nella stagione di Mida perché c'è pure questa specie di chiave inglese quindi mi sembra una rivisitazione di quella skin va bene il megalodon che ragazzi mi piace il megalodon è veramente figo come è fatto la bombarola vabbè magneto ragazzi magneto mi piace tutti si lamentano per la serie per le collaborazioni con la marvel però ragazzi a me piace vi ricordo sempre che la prossima season perché è stata confermata a parte ci sarà la collaborazione con Pianti dei Caraibi Fall Guys penso ad agosto luglio o agosto non mi ricordo ma ci sarà una nuova season di fortnite che sarà la prossima dopo questa tutta inerente alla marvel ragazzi quindi mettetevi con il cuore in pace e comunque a me non mi dispiace a me piacciono le collaborazioni della marvel perché fanno skin che mi piacciono poi il gioco a me è diventato tutto collab quindi ragazzi è tutto collaborazioni però che c'è da fare? fanno solo collaborazioni per ora quindi ci sta e a me piacciono piacciono queste collaborazioni che fanno poi ecco mettono skin originali però a parte Ruggine che già io ad esempio Ruggine ce l'ho perché l'ho preso nel pass della stagione 3 se non sbaglio si dovrebbe essere nella stagione 3 e me l'hanno rimesso però ragazzi non mi lamento cioè mi va bene non è nello stesso è una rivisitazione che già hanno fatto con la stagione X che mi hanno fatto una specie di Ruggine gladiatore diciamo che poi puoi cambiare lo stile e metti il giubbottino però ragazzi a me piace poi c'è quel quei piselli non so cosa sono quelle non riesco a capire che cosa è ragazzi non lo riesco a capire allora ragazzi andiamo a vedere i nuovi leaks che sono anche usciti sono usciti i nuovi leaks da esempio ritornerà la chiappa mucche quindi mi piace come cosa vabbè questi non mi interessano tra l'anno arrivo ma già l'abbiamo guardato un nuovo consumabile nitro che penso di a forza non lo so infuso infugi infuso players e i veicoli non so cosa serve nuove armi pistola pesante potenziata fucile da salto da combattimento del macchinista boom bolt del sling master va bene oh questo ciuffetto che mi dà fastidio pure boom bolt fucile da combattimento di megalodonne va bene fucile da combattimento pugni nitro di megalodonne ragazzi questi mi piacciono spaccano un casino pugni nitro nuovo bus della battaglia armato che già c'era ragazzi bus della battaglia corazzato già c'era però adesso l'hanno fatto tipo a modi mad max l'hanno fatto ragazzi spero sempre una collaborazione con mad max lo spero sempre un autobus un autobus da battaglia corazzato ma con la capacità di sparare un'esplosione elettromagnetica nell'aria circostante in grado di disabilitare altri veicoli tipo la granata quella che sparava elettricità che la tirava nelle macchine e si fermava in mappa ci saranno oggetti chiamati cactus curativi vabbè questa è la skin del ruggine nuovo ombrello competitivo ombrello competitivo junker che dovrebbe essere di fare i punti nell'arena e poi lo sbloccherete come c'è stato quello della scorsa season che c'è di nuovo nella battaglia reale di forte capitolo 5 stagione 3 a pezzi nella battaglia a pezzi mettete la guida a fronte ai meccanici del caos noti come guerrieri delle terze desolate ragazzi è troppo inerente a mad max troppo troppo nuovi poi vediamoli questa questo l'abbiamo visto nel teaser quindi dovrebbe essere un poi inerente a fallout questo mi piace un bordello questo mi piace un casino come è fatto con tutti questi colori è la nave squalo che è abbordata nell'isola quindi ci sta che ci sta che diventi un poi ragazzi cioè guardate ha anche la cassa sopra la nave è uguale allo squalo che avevamo il poi dello squalo quando era fatto di pietra o la stessa la stessa è uguale c'è pure la cassa lì sopra in cima ma questo è il trailer che già abbiamo visto in giro per la app si troveranno barri di nitro che potrei far esplodere per prenderne il potere e dobbiamo vedere che che abilità danno cosa cosa fanno ecco i vari nomi in italiano pozzo purpurio nitrodromo spiaggia spietata nuovi oggetti il nitro che dovrebbe essere penso nitro si e i pugni di megalodon ok nuove skin del pass va bene ah ok quindi la macchina avremo una nuova macchina nel pass che sarà questa almeno penso perché nella seconda immagine c'è uno stile diverso quindi scusate perché ho prodito qui quindi penso che avremo una nuova una nuova macchina nel pass va bene la cosa non mi dispiace poi ah nuca cola di fallout ecco quindi penso che darà o nitro o servirà per curare o darà scudi non lo so ancora nuova balessa esplosiva va bene vabbè cosa siete detto io non ci interessa la stagione 3 questo è molto importante la stagione 3 capitolo 5 terminerà il 16 agosto ragazzi quindi fra 84 giorni ok queste sono tutte le nuove skin che abbiamo visto ah eh pugno nitro in game ragazzi è devastante comunque è vero ragazzi è veramente devastante è devastante cioè guarda spacca qualsiasi cosa cioè spacca il busso ve lo fa a pezzi potere di magneto in game ok quindi serve come scudo è per lanciare cose e pure questo spacca tutto questo non ci interessa i veicoli in questo stagione non avranno bisogno di carburante quindi avranno bisogno o di nitro penso per il carburante perché non penso che facciano le i veicoli infiniti perché ragazzi sarebbe un casino fightare perché se qualcuno ha la macchina tutta la partita così sta con nella macchina oltre a di skin pass e battaglia macchinista sarà la prima skin ruggine p p p body ah p body è quelle specie di piselli ok lo scar t 60 bomba rollo e me ah mega lo donnerà la skin di livello 100 il t 60 e poi nel pass quindi la skin segreta è magneto ah ok quindi allora i poteri di magneto non ci saranno non ci saranno subito saranno in un prossimo aggiornamento quando uscirà la skin segreta penso armi che sono rimaste e ritornate fucile pesante guardiano di cerbero fucile pesante da combattimento fucile pesante guardiano fucile a pompa a fucile a pompa a martello fucile pesante automatico frenesia di oscar fucile ad assalto tempra di guerra fucile ad assalto tattico modifica il bilanciamento donne lunga distanza aumentate rinculo ridotto diffusione dei proiettili ridotta vabbè fucile ad assalto gendarme danni aumentati cadenza di tira aumentata moltiplicatore colpi critici aumentato mitraietta raffica di tuono che per me se la potranno anche tenere quella che spara tre colpi mitraietta araldo dmr cacciatrice per me lo potranno anche trogliere perché non mi è mai piaciuto pistola ranger una bella pistola normale niente pensavo ragazzi per un attimo ho pensato che era la pistola quella che aveva un solo colpo che è uscita nelle season scorse non quella dei pirati l'altra che ragazzi mi divertivo proprio mi divertivo usavo solo quelle pistole usavo pistola pesante a lunga distanza aumentata di rocetta proiettile aumentata ok nuovi stili di megalodon figo così bello tutto infuocato no questo è più figo questo è più figo perché ragazzi è uguale a mad max sembra proprio il boss di mad max del film di mad max è veramente bella questa skin e questo è lo stile slurp che non mi fa non mi fa tanto impazzire la skin di magneto vabbè ok perché la prima vista è nel passo però così si vedono molto ma molto nel dettaglio alcuni stili armature del t60 questa è quella del cavaliere nero un po' palese ragazzi ha lo stesso scusate ha lo stesso stile questa è pure figa questa è stile ruggine questa è bella però ragazzi l'originale è l'originale si l'originale è molto meglio sub modificato ecco il sub che abbiamo visto nel trailer bello con questa cosa dello scuolo mi piace speriamo che sia nel passo questo stile scar mattatrice ok questa con la maschera da iena questa sempre con la maschera da iena però modificata e poi normale stile classico ruggine ragazzi ruggine ah ma ruggine ha la maglietta di metallica quindi hanno confermato anche questa teoria che allora il 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 che è uscito mesi fa dove venire a vedere tutte le collaborazioni allora è vero è proprio confermata al 100% quindi nuova una nuova collab con metallica ok cosmetici lego della nuova stagione ma non penso che saranno nel passo questi penso che si si dovranno scioppare sì sì penso proprio di sì ragazzi macchinista eccolo ragazzi è figa però questa skin è figa 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 veramente mi piace tanto questo è un nuovo stile stamp stile ruggine va bene con la maschera abbassata e questo mi piace pure però ragazzi così mi piace molto ma molto di più allora la nuova skin del pass che non mi pibodi pibodi si chiama ragazzi e io lo chiamo non mi è di basto piselli però questa è una bella stile lego e questo è il suo stile tutto giallo ragazzi sta scherzo se ci fate caso ragazzi in ogni pass mettero sempre una skin per cazzeggiare un meme fanno uscire nel passo ogni volta questa sarà una skin shoppabile per i sub ok quindi non c'è va bene va bene va bene nuova skin del bombarolo lo stile col casco stile classico e stile con i capelli bella questa questa mi piace però questa mi piace di più ragazzi così mi piace molto molto di più nuovi cosmeti vabbè cos'è l'ombrellino e penso che queste saranno sempre nel pass altri infatti altri cosmetici del pass una mimetica questa cosa è una schermata dovrebbe essere o una schermata oppure è il veicolo che ci daranno nel pass ragazzi madonna che figo oh mad max anzi voglio una collaborazione nuova mimetica nuovo piccone ok questo è del megalodon va bene bello le auto dei boss avranno carburante nitro infinito chi ha proprio tre nuovi medaglioni il medaglione del macchinista rigenera il tuo scudo nel tempo il medaglione del direttore del circo scar ti dà munizioni infinite e un piccolo bonus e danni il medaglione di megal ti riempirà di nitro infinito quindi ragazzi averli tutti e tre vi renderà immortali va bene cosmetici t65 ma non è la t60 questa dimetica ha una percentuale per ora è a zero chissà cosa serve lo spray vabbè la schermata di caricamento e il deltaplano ok set megalodon vabbè bello il martello martellone bello lo spray la il deltaplano ok e la schermata nuove modi per i veicoli torretta di artiglieria torretta lancia granate paraurti chiodati deflettore pneumatici antiproiettile pneumatici fuoristrada bestiali madonna cioè le macchine ora che si possono modificare è veramente una figata questa cosmetici del meccanismo il meccanista scusate la rimetica la schermata di caricamento e lo zainetto vabbè niente di che nuovi cosmetici vabbè queste quelle di P-body ok questo è il deltaplano lo spray questo è lo zainetto che è brutta ragazzi questa skin non mi piace completamente proprio non mi piace allora nuovo sfondo nuovo sfondo in lobby ok vabbè è classico l'intensità nuova skin in arrivo ma questo penso che sia sia una specie di skin presa dal sondaggio perché non è ufficiale non è conferma non è ancora finita come skin nuovi cactus curativi va bene l'aggiornamento vabbè questo non ci interessa sfondo lobbying game l'ho detto stile classico però figo ci sta nuovo pacchetto salve il mondo anzi ragazzi vi ricordo che ci sarà l'aggiornamento dovrebbero aggiornare salve il mondo non so che aggiornamento faranno perché dopo anni stanno dopo anni ragazzi stanno aggiornando il salve il mondo non so manco io perché allora ben negozi oggetti le nuove offerte sono state aggiunte allo shop ancora non visibili perché deve uscire l'aggiornamento ogni cosmetico ogni cosmetico dello shop adesso non so parlare adesso ha un timer che ti dice per quanto rimarranno mappa stagione 3 vediamola subito ah non c'è più l'acqua vabbè il monte olimpio è rimasto ci sono le nuove i nuovi POI brutal benched che dovrebbe essere quello dove c'è la nave dello squalo ma non c'è più acqua ragazzi l'unica acqua che c'è ed è pure infettata è quella di Ade perché poi è tutto sabbia guardate è tutta tutta sabbia ma cioè tutta anche fuori l'isola è tutta sabbia vabbè è diventato tutto il deserto ok vista migliore della torretta montata per i veicoli dobbiamo vedere se spara da solo o deve essere aiutato o deve essere tu a sparare il potere di magneto arriverà con i prossimi aggiornamenti ecco non lo immaginavo i server non sono neanche online e ci sono già i primi bug mamma mia e quando mai le tartaruga ninja lasceranno lo shop il 24 maggio immagini del profilo di fortnite sono ora disponibili oltre 800 skin e la proprietà creativa d'oltre di 3 sui npc vabbè questo non mi interessa mister handy di fallout sarà un dorso decorativo eccolo in game ah qua va bene altre immagini delle città vabbè l'abbiamo viste prima questo è un altro poe va bene zero build è cambiata la schermata vabbè fortnite champions fortnite champions nuove coni di fortnite sull'epic sull'epic gaming store immagini promozionali vabbè android non mi interessa oggetti rimossi frenzy auto shotgun disponibile solo il mitico di oscar fucile d'assalto nemesi folgore di zeus fucile da cecchino di fucile da cecchino metitore ali di icano catene di ade e domino dell'acqua finalmente mi dispiace un po' per le catene di ade perché mi piaceva utilizzarle iniziata la distribuzione degli aggiornamenti nuova icona battle royale vabbè la nuova patch disponibile aggiornamento sui pc vabbè arianna grande ah nuove collab di nuovo arianna grande eternal sunshine skin lethal company e perché skin fallout tagliato lethal company non vabbè non so perché forte di stato con il creatore di contenuti alcuni pioi in tutta l'isola gli autobus da guerra hanno lontopalanti che diffondono musica su licenza i creatori del programma supporta creatori che hanno un account youtube collegato possono utilizzare contenuti vood con questa musica per le prime due settimane della stagione va bene the lethal company va bene questa è la skin che non sarà nel pass ragazzi questa skin che hanno mostrato nel trailer che si vede all'inizio quando spunta la nave squalo e c'è lui che scappa con la motocicletta non sarà nel pass sarà una skin inshopabile che è un peccato perché mi piaceva come skin e me l'hanno messa infatti nel negozio me l'immaginavo e le skin belle non le mettono nel pass questa è la nuova mappa ma aspetta allora l'acqua c'è non riesco a capire se c'è l'acqua o no vabbè in game ragazzi poi andremo a vedere ah ecco infatti questa è la crew di giugno la skin che abbiamo visto prima che era una specie di sondaggio infatti il sondaggio è confermato sarà una skin della crew che non mi fa nemmeno tanti impazzire nuove skin questa sarà della crew una specie di stile giapponese e questa è ruggine quindi ruggine potrà togliere il casco ok ombre venendo della vittoria batteriale ranked questo sarà il nuovo ombre della vittoria che andrà a sbloccare su batteriale zero costruzioni dove volete e questo invece sarà quella con il ranked ragazzi quello in arena ok nuovo pacchetto salve il mondo già avevamo visto forte nel teore in una versione anticipata di un real engine 5.5 va bene niente ragazzi siamo già a un bel po il video penso che sia molto molto lungo però è uscito il trailer vi ho fatto vedere anche tanti 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 leaks quindi ci sta se perdiamo un po di tempo vi ricordo di iscrivervi al mio canale youtube tiktok salagero88 ragazzi fatelo per favore tanto è gratuito e andate a vedere gli shorts ragazzi vi raccomando iscrivete già siamo a 430 iscritti un bel traguardo per me per ora e niente ragazzi ci becchiamo un prossimo video appena uscirà che è successo questi ragazzi così tutto stavo chiedendo il video nuovi deltaplani va bene ma alcuni deltaplani di questi già ci sono un nuovo stile di magneto vabbè ci sta senza l'elmetto vabbè hop e gione si riappariranno nella trama di questa stagione quindi ragazzi di eventi spero che lo facciano uno ma ne facciano bene cioè è meglio fare i mini eventi ragazzi che è più figo fare i mini eventi perché è più succoso ti godi molto di più il gioco ma no come un evento finale che certe volte non è fatemelo dire una cacata grazie grazie